Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e oggi vi mostro il bottino di Etna Comics. È passato qualche mese, ma era ora, dovevo farvelo vedere e quindi adesso cominciamo. Ma prima vi ricordo che su Pampling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete sempre un paio di calzini in omaggio e lo sconto accumulabile con tutte le iniziative di Pampling. E poi trovate anche la mia vetrina Amazon con tutti i prodotti scelti da me, sia a temi Harry Potter che altri temi. Ovviamente trovate anche tutti i link utili relativi ai video e alle cose che vi mostro. Detto questo, cominciamo subito con la nostra review di quanto è successo ad Etna Comics. Quest'anno sono passati un po' di mesi, ho già cominciato a farvi vedere qualcosa nel video precedente con i libri che mi ha firmato Serena Riglietti, con le dediche che mi ha fatto, e vi ho raccontato un po' quello che lei ci ha raccontato sulle varie copertine, su come sono nate. Se non l'avete visto recuperatelo, vi lascio qui nelle schede il link al video. Ma oggi voglio recuperare un'altra cosa di Serena Riglietti che avevo dimenticato di farvi vedere e altre cose che invece ho recuperato per la mia collezione, perché oltre a collezionare Harry Potter colleziono tante altre cose, tra queste anche stampe, disegni, sketch di vari autori. E quindi ho un po' di cose da mostrarvi. Cominciamo proprio da Serena Riglietti, perché durante Etna Comics c'era la possibilità di recuperare questa stampa che adesso vi mostro. Eccola qui. È una stampa che ha portato proprio Serena Riglietti in quantità limitata lì all'evento e mi è stata firmata qui sulla parte del colletto della giacca di Harry. Spero riusciate a vederlo. È questa stampa con quest'illustrazione di Harry con gli occhiari tondi, il gufetto sulla spalla e poi quindi mi è stata firmata qui davanti. Sono molto soddisfatto di questa e penso che la farò incorniciare a breve. Devo ancora capire dove metterla. Ma questa è una di quelle cose che mi piace avere in collezione. Come vi dicevo, ho cambiato modo di collezionare. Questo è uno di quei pezzi che per me hanno un valore superiore magari rispetto a un prodotto Noble Collection per quanto siano belli i prodotti Noble Collection. Ma archiviato questo voglio farvi vedere altro perché durante Etna Comics era presente anche Caparezza. e Caparezza ha fatto una stampa in edizione limitata, numerata, se non sbaglio erano 400 pezzi, adesso andremo a controllare, in collaborazione con Simone Bianchi. Chi è Simone Bianchi? Per chi non lo conoscesse, lui è un disegnatore Marvel. Ho altre cose sue dell'anno scorso che non vi ho mai fatto vedere. Credo perlomeno di non avervele fatte vedere, come ad esempio la testa di Spider-Man che mi ha disegnato. E quindi hanno fatto questa collaborazione ed è uscita fuori questa stampa, come vi dicevo 400 pezzi, la mia è la numero 370 ed è numerata e mi è stata firmata sia da Caparezza, eccola qui. Qui troviamo l'autografo di Simone Bianchi, mentre da questa parte l'autografo di Caparezza. Mi è stata firmata lì sul momento, c'era un firmacopie e quindi io li ho visti, ho visto Caparezza, ho visto Simone Bianchi, però non ho potuto prendere parte alla sessione di firme e quindi i miei amici Diana e Graziano hanno fatto la fila per me e si sono fatti dedicare la stampa, quindi non finirò mai di ringraziarli. Questa stampa è molto molto bella, qui al centro troviamo la testa di Caparezza e poi abbiamo un elefante da questa parte, il bianconiglio, troviamo dei fantasmi. Sinceramente non so a cosa si riferisca esattamente, l'ho vista, mi è piaciuta e l'ho comprata. Credo faccia parte di un progetto più grande, probabilmente c'è legato anche a un progetto musicale di Caparezza, non lo so, però mi piaceva e l'ho presa. Passando invece all'Artist Alley erano presenti molti disegnatori Disney e due su tutti erano Paolo Mottura e Fabio Celoni. Ho acquistato da loro delle stampe che mi sono fatto firmare e la prima stampa che ho preso è quella di Fabio Celoni, che è davvero bellissima a mio parere, ce ne erano tante, ho scelto quella che più mi ha colpito come prima, ed è questa qui, questa qui di Zio Paperone, Paperino, qui, qua e qua, dentro il deposito. Mi è piaciuta molto, come prima ho voluto prendere qualcosa di un personaggio che è stato più rappresentativo per me nel mondo Disney quando ero bambino e a me piacevano un sacco le avventure di Zio Paperone e di Paperino. Mi piacevano i DuckTales, quando mi capitava un topolino sotto le mani le prime storie che andavo a leggere erano quelle di Paperino e quindi ho voluto cominciare da Paperino e ho preso questa qui, qui in basso è firmata per Antonio Fabio Celoni e penso che più avanti magari ne prenderò altre, visto che ogni anno loro più o meno sono presenti e hanno le loro stampe e chissà prima o poi magari mi farò fare anche un disegno originale su richiesta, hanno dei prezzi un po' elevati ma chissà, magari più avanti. Mentre invece la seconda è quella di Paolo Mottura, che è questa qui in questo caso ho scelto qualcosa che rappresentasse un po' tutto il mondo Disney e c'era questa qui che mi piaceva molto, al centro Walt Disney che stringe la mano a Topolino quindi il suo primo personaggio, quello lì diciamo fondamentale, quello che è diventato il marco dell'azienda e poi attorno abbiamo tanti personaggi relativi ai film, ai lungometraggi, soprattutto ai primi infatti qui sulla base abbiamo le bobine cinematografiche, abbiamo il premio Oscar abbiamo un richiamo a Biancaneve e i Sette Nani, a Fantasia e quindi poi in alto troviamo appunto Lo Stregatto, Dumbo, i Sette Nani, Cenerentola, Biancaneve i classici personaggi Disney, Crudelia Demon, Peter Pan, Capitano Uncino, Pinocchio, Il Grillo Parlante quindi tutti i film diciamo più vecchi, tutti i primi lungometraggi Disney mi è piaciuta davvero tanto e quindi per questo ho deciso di prenderla e sempre Celoni e Mottura avevano delle sessioni firme allo stand di Panini e per i primi, se non sbaglio, 7-8 che si presentavano lì a quell'orario per farsi fare una firma veniva regalato anche uno sketch quindi mi sono messo ovviamente in fila parecchio tempo prima rispetto all'orario stabilito sono rientrato in questi primi 7-8 previsti e mi sono fatto fare due sketch il primo, questo qui è di Paolo Mottura che mi sono fatto fare su questo fumetto qui che si intitola Metropolis e mi ha fatto davvero uno sketch bellissimo eccolo qui, spero si riesca a vedere c'è questo topolino con un orologio alle sue spalle e in mano tiene un cacciavite, una chiama inglese è davvero molto molto bello, io spero si riesca a vedere dalla videocamera è davvero bellissimo che poi va a riprendere un po' la copertina perché anche qui abbiamo questo orologio grande alle spalle di Topolino mi è piaciuto davvero un sacco e poi stessa cosa fatta fare a Fabio Celoni qui abbiamo invece Dunkinstein quindi la storia di Frankenstein in vesti paperesche e in questo caso mi ha fatto questo bellissimo paperone questo paperone Dr. Frankenstein che è veramente bellissimo guardate quanto è grande è un'intera pagina io sono rimasto veramente a bocca aperta quando me l'ha fatto è davvero bellissimo ho anche dei video, delle foto di lui che mi fa questo sketch ma che è un vero e proprio capolavoro e non so proprio come ringraziarlo è davvero meraviglioso io ho anche tanti altri fumetti schiacciati, disegnati, dediche cose di questo genere qualora vi facesse piacere vederle potrei fare un video dove ve le mostro tutte fatemelo sapere nei commenti se la cosa vi può interessare ma per finire ragazzi Dulcis in fundo io ho il pezzo principe secondo me di questo bottino 2023 perché finalmente sono riuscito ad aggiudicarmi un pezzo dell'asta di beneficenza di Etna Comics ogni anno Etna Comics a fine fiera realizza un'asta dove tutti i partecipanti, tutti gli ospiti hanno messo a disposizione una loro opera danno appunto in regalo alla fiera una loro opera e queste opere vengono poi messe all'asta e vendute al miglior offerente il ricavato andrà poi in beneficenza a ospedali pediatrici, associazioni che più ne ha più ne metta bene, io seguo quest'asta da tantissimi anni non sono mai riuscito a comprare niente quest'anno finalmente mi sono portato a casa un pezzo c'erano cose meravigliose come ad esempio disegni originali di Serena Riglietti non di Harry Potter ma di altri suoi lavori c'è stata anche un'opera meravigliosa di Milo Manara oppure di Simone Bianchi di Elena Mirulla che è saputo tantissimo ha fatto un bellissimo lavoro dedicato ad Harry Potter che io non sono riuscito a prendere e poi ragazzi invece sono riuscito ad aggiudicarmi un disegno bellissimo a mio parere Marvel di Davide Paratore Davide Paratore ha già lavorato per la Marvel ha pubblicato una copertina negli Stati Uniti famosissima, quella della morte di Miss Marvel e ha realizzato uno Spider-Man 2099 perché proprio in quei giorni era uscito l'ultimo film animato di Spider-Man e quindi ha voluto fare questo omaggio con questo Spider-Man 2099 che io sono riuscito ad aggiudicarmi e che adesso vi mostro ragazzi eccolo qui questo l'ho già messo in cornice spero riusciate a vederlo secondo me è bellissimo è meraviglioso è di una bravura Davide Paratore davvero sbalorditiva c'erano tantissime sue opere in vendita lì ad Etna Comics io le avevo già puntate le avevo viste i prezzi erano per le mie tasche un po' proibitivi purtroppo ma invece con un colpo di fortuna sono riuscito ad aggiudicarmi questo all'asta che mi piace davvero tantissimo mi piace anche tantissimo il colore dello sfondo mi piace tantissimo questo gioco di luci che ha fatto sul costume è davvero fantastico ne sono super super orgoglioso e spero il prossimo anno di riuscire ad accapararmi qualche altro pezzo perché no anche un altro pezzo di Davide Paratore perché vi consiglio assolutamente di seguirlo è un ragazzo giovanissimo che lavora già per Marvel e che farà sicuramente grandi cose quindi ho puntato tutto su di lui sono super super contento questo ragazzi era il mio bottino di questo Etna Comics 2023 anche perché ho avuto poco tempo per girare tra i vari stand per presenziare gli appuntamenti con i vari artisti quindi questo è quello che sono riuscito a raccimolare perché ero molto impegnato anche con la mostra ma il prossimo anno cercherò di fare ancora meglio quindi fatemi sapere sotto nei commenti se questo genere di video vi piace se siete interessati a vedere anche gli altri pezzi della mia collezione relativa a questo a questo mondo delle stampe degli sketch delle firme se può interessarvi fatemelo sapere sotto nei commenti detto questo ragazzi io vi do appuntamento ogni giovedì su Instagram alle 21 per una live a tema Harry Potter e collezionismo già ne abbiamo fatte un po' stanno riscontrando un buon successo ci sono io ogni settimana in live insieme a Mogra di Mogra Collectibles a Graziano e insieme a Rudy di The Potter Book 85 abbiamo già avuto diversi ospiti come Francesco di Always Once Alessio Salitore il bravissimo artista che ha realizzato il busto di Python la statuina di Serena Riglietti e tantissime altre cose abbiamo avuto Emanuele che è un super collezionista di Funko Pop e avremo ancora tanti tanti altri ospiti alcuni nomi davvero grandissimi vi faccio già uno spoiler avremo anche Richard Mastro Anderil che sicuramente tutti conoscete avremo anche il Marchingegno Marco ma avremo davvero tanti tanti ospiti e probabilmente avremo anche Serena Riglietti quindi ragazzi mi raccomando seguitemi su Instagram vi lascio il link sotto in infobox a questo punto vi ho detto tutto quindi chiudo il becco e ragazzi ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.